Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Antonella Fiordelisi è intervenuta su Twitter per chiedere ai suoi fan di non inviarle più video che la ritraggono felice con Edoardo Donna Maria. Lo scorso mese, l'ex concorrente del grande fratello VIP ha annunciato in lacrime la fine della relazione. Rivedere i momenti felici passati con lui, al momento non le fa bene. A giudicare dalle parole di Antonella, sembra che al momento l'ex concorrente del grande fratello VIP e Edoardo non siano ancora riusciti a trovare un punto di incontro, per tentare di risanare la loro relazione. La showgirl, su Twitter, ha rivolto un appello ai fan. Ha chiesto alle tantissime persone che nel corso del reality grande fratello VIP si sono affezionate alla coppia. Di evitare di mandarle video che ripercorrono i momenti più romantici dei donnalisi. Quei video, anziché esserle di conforto, non fanno altro che destabilizzarla.